Fuori pista Slow Tourism, si chiama così il progetto di esperienze che raccontano i territori all'interno del programma di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. Il 14 aprile la nuova tappa che propone un nuovo modo di fare turismo, raccontandolo attraverso le guide di comunità. Dai castelli nascosti al respiro delle pietre borghi in cammino, insomma un'esperienza che unisce natura e cultura, proprio in pieno stile Pesaro 2024. Sono due progetti che si intersecano molto bene, quasi complementari, uno è pensato e curato dalla macina che punta nel centro Slow Tourism, mettere il focus su pietre in cammino, quindi partire da vecchi ruderi, da pietre e segni che in periodo nelle nostre aree interne molto spesso raccontano una storia o comunque generano curiosità e si parte per una serie di visite, di visite guidate che poi approderanno anche a una documentazione, video, audio per poterne fare un racconto lungo attraverso podcast, attraverso la possibilità di ritrovare delle storie per poi andare a generare iniziative e visite sempre nuove. Allo stesso modo invece Castelli nascosti, che è un progetto di Alessandra Mindoli, entrambi questi due progetti attuati per la capitale italiana della cultura, da Centro Servizi per il volontariato, si propone invece di andare a scoprire o riscoprire castelli nascosti, rocche, luoghi non abbandonati ma meno vissuti e trasversalmente anche al lavoro delle amministrazioni in modo da poter essere anche uno sprone a realizzare delle visite anche durante l'anno portando con l'occasione della capitale della cultura un focus e un'attenzione specifica. In questo caso le giornate si svolgono dalla mattina e poi hanno sempre una prosecuzione anche in luoghi significativi delle gastronomie della zona e permettono appunto di riannodare storie, di andare in luoghi anche sconosciuti o comunque da fare conoscere maggiormente a un pubblico più largo ma sempre con un approccio slow, quindi non di massa ma di poter andare un po' a fondo delle questioni e anche qui potendo poi dare anche fiducia all'amministrazione, all'alità del territorio per poter riprocorrere questi eventi non solamente in occasione della capitale della cultura o della settimana in cui quella realtà che ospita il castello, la località è capitale ma anche durante l'anno e anche perché non gli anni prossimi. Quando la fondazione capitale della cultura ci ha chiesto di collaborare, di essere ente attuatore di questa iniziativa abbiamo da subito capito che sarebbe stata una sfida importante, quindi ci siamo impegnati a fondo e credo che la soluzione che abbiamo trovato per valorizzare i luoghi del nostro territorio sia una cosa davvero straordinaria. Noi accompagniamo le persone e gli facciamo vedere dei luoghi belli, straordinari dal punto di vista della storia, della cultura che lì è transitata e il racconto lo facciamo in una maniera molto particolare perché ognuno dei collaboratori che abbiamo, degli altri soggetti che sono in rete con noi si è inventato un modo diverso per raccontare che cosa è successo in quei territori, che cosa di bello e di particolare c'è nei castelli nascosti, nei territori più reconditi della nostra bellissima provincia e succedono cose veramente inaspettate, anche perché lo spettatore, il pubblico e chi viene accompagnato in questi luoghi interagisce e si mette a disposizione del racconto. Abbiamo cercato di pensare ad una nuova filosofia di turismo, un turismo esperienziale, un turismo lento, come si suol dire in questo momento, un turismo che metta al centro delle guide autoctone, dei raccontatori che andiamo a trovare e andiamo a cercare sul territorio e che ci racconteranno oltre che i luoghi anche gli anedoti e le storie del passato per far entrare il turista ma anche la persona del nostro territorio all'interno di un viaggio, di un percorso che diventa, sì, proviene dal passato ma poi si proietta nel presente e verso il futuro. Questo progetto è proprio nato all'interno del dossier di Pesaro Capitale 2024, è stato studiato appositamente per riportare i luoghi del territorio interno della provincia di Pesaro protagonisti nel raccontare le proprie storie e per cercare di promuovere quindi questo territorio in uno sviluppo di turismo differente.